Qualche giorno fa il sopralluogo in incognito lungo la pista ciclabile di Cologna-Spiaggia per verificare personalmente la situazione sul tracciato dopo gli esposti di protesta presentati dai residenti e dai turisti che ne mettevano in evidenza la pericolosità in alcuni punti. Il sindaco di Roseto, Sabatino di Girolamo, nel suo sopralluogo accompagnato anche dal suo vice Simone Tacchetti, ha potuto in effetti constatare come stanno le cose non solo a Cologna ma anche nella zona sud del lungomare rosetano. Con il vice sindaco abbiamo esaminato metro metro la situazione della pista ciclabile e abbiamo rilevato delle criticità evidenti a cui andranno sicuramente apportati dei correttivi. Ho chiesto immediatamente alla mia Polizia Municipale, al comando di Polizia Municipale di rimettermi un rapporto dettagliato su quelle situazioni di criticità che sono state denunciate dai cittadini e su quelle situazioni di criticità che ho rilevato io perché oggettivamente alcune criticità si rilevano i ctuoculi a un primo esame. Dunque si correrà ai ripari. Al comando della Polizia Municipale è stato dato in carico di eseguire una nuova ricognizione di trovare delle valide soluzioni. I punti che presentano i maggiori dubbi sono all'altezza dell'incrocio tra via degli Acquaviva e via Bozzino. Qui la pista va a ricongiungersi in prossimità di una curva, il che rappresenta un pericolo perché con la visuale ridotta un'automobilista potrebbe non accorgersi della presenza di un ciclista. Altre criticità in via del sottopassaggio con l'innesto in via degli Acquaviva, poi sul tratto sud del lungomare subito dopo il pontile con lo spazio riservato ai pedoni troppo stretto. Infine in via Tamigi in prossimità del porticciolo turistico. Su queste tematiche ripeto mi confronterò con il comando di Polizia Municipale, con i progettisti, con il Vice Sindaco e con il mio dirigente e apporteremo delle modifiche a quello che è lo stato attuale della pista ciclabile. Intanto Sindaco la buona notizia è che comunque la Regione vi ha concesso una proroga e quindi avrete ad ogni modo tempo fino al 31 dicembre per intervenire. Infatti questa proroga che peraltro è intervenuta solo a fine luglio è una manna dal cielo, da me sollecitata, devo dire, e ci consentirà di fare una riflessione anche con i cittadini sul percorso della ciclabile e sulle criticità eventuali perché le idee buone possono venire non solo dai tecnici ma anche dalla pratica, dai cittadini che ogni giorno frequentano la pista e quindi su questo questa proroga ripeto ci darà la possibilità di riflettere su queste tematiche perché non siamo più pressati dalla scadenza del 31 luglio che è stata per noi una spada di Damocle che abbiamo avuto fino alla fine del mese di luglio.